Porte aperte e limitazioni solo per i tifosi ospiti. Si è finalmente conclusa la corsa a ostacoli della Calcio Lecco per giocare la tanto attesa prima partita in Serie B a Riga Monticeppi. Dopo un'estate passata a fare tutti i lavori richiesti dalla FIGC per ottenere in deroga l'ok da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi e poi quello della Commissione Comunale di Vigilanza dei Pubblici Spettacoli cui è seguito il comunicato della Lega B. Sono stati necessari altri due giorni di interminabili riunioni per ottenere dal GOS il gruppo operativo Sicurezza dopo un serrato confronto con l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. Il via libera per la disputa della partita alla Riga Monticeppi con gli spettatori sugli spalti. Diverse le criticità emerse dal punto di vista dell'ordine pubblico anche alla luce dei diversi eventi in programma durante la stessa giornata lo shigamat e il concerto alla Leic Arena e dei precedenti tra le due tifoserie ma alla fine ha prevalso il buonsenso vendita libera per i tifosi di casa restrizioni per gli ospiti per i residenti a Brescia e provincia la vendita dei biglietti è limitata al solo settore ospiti e per loro è necessario essere in possesso di tessera di fidelizzazione ovvero la tessera del tifoso 450 posti messi a disposizione ma anche per il supporto ai Blu Celesti ottenere l'accesso a Riga Monticeppi rischia di essere un percorso tortuoso aperto il ritiro degli abbonamenti ancora in formato cartaceo ma con il codice per l'accesso dei tornelli subito si sono formate lunghe code alla biglietteria della Curva Nord il 1600 dovranno passare allo stadio da qui a sabato mattina per prendere il loro abbonamento ai quali si somma chi deciderà di acquistare ora l'abbonamento servirà pazienza anche per comprare il singolo biglietto non sarà ancora aperta infatti la vendita online tranne che per il settore ospiti i tagliandi si possono acquistare in biglietteria a tribuna o allo Shamrock